Coppie di sposi che siete a caccia di nuove tendenze per organizzare il matrimonio più originale del 2023 sono qui per aiutarvi. In questo video vi racconto le 5 nuove tendenze che si stanno svelando per i matrimoni 2023. Questo è un esercizio che io faccio tutti gli anni basandomi su dei dati concreti perché si va a guardare quanto effettivamente le ricerche su internet da parte degli sposi di tutto il mondo sono cresciute rispetto agli anni precedenti quelle più cresciute di tutte determinano i nuovi trend quindi sono dati oggettivi quelli che vi sto per dire. Sono 5 su 5 temi diversi l'atmosfera generale l'abito da sposa il bar i colori e la torta nuziale anche se su quella poi tornerò anche successivamente in più però ho voluto fare le mie considerazioni guardando quello che è successo negli ultimi anni ho una mia tendenza generale da raccontarvi che spero in realtà non sia solo per il 2023 ma che sia una tendenza molto più duratura. Sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento e se non l'avete già fatto iscrivetevi subito al canale youtube così non perderete neanche uno dei miei consigli ma ancora meglio andate sul sito matrimoni con l'accento.it e iscrivetevi alle mie newsletter così avete ancora più contenuti. Partiamo dalla tendenza numero 1 che riguarda l'atmosfera generale a pensarci bene è una tendenza piuttosto logica dopo tutto il periodo che abbiamo passato con il covid con le restrizioni con il lockdown le ricerche che si fanno su internet fanno capire che c'è una grandissima voglia di festeggiare alla grande cioè di organizzare degli eventi epici indimenticabili come studiando e personalizzando ogni singolo dettaglio ma questo non solamente per i matrimoni in realtà cioè una grandissima ricerca anche per personalizzare anniversari compleanni battesimi qualunque tipo di festa vuole essere festeggiato alla grande figuriamoci il matrimonio quindi tantissime ricerche per idee originali per stupire per fare cose molto particolari. Secondo trend riguarda i colori anche questi abbiamo già iniziato a vederli negli anni passati ma sempre di più vengono cercati il colore preferito dagli sposi 2023 è l'arancione ma non nelle sue tonalità quelle più strong quelle più forti in realtà nelle sue tonalità più color rame più terracotta viene definito rust wedding perché viene cercato ovviamente anche in america in tutto il resto del mondo dove rust è ruggine e viene cercato per tutti gli elementi del matrimonio quindi non solamente per gli allestimenti ma anche per gli abiti delle damigelle anche per l'abito da sposa addirittura quindi centrotavola arancione si cerca tutto nelle varie tonalità di arancione per tutte le età. Terza tendenza che riguarda non solo l'abito da sposa in realtà ma l'abbigliamento in generale tutto il settore dell'abbigliamento mondiale è influenzato dalle frange e le frange sono il nuovo trend e non si potevano esimere da questo anche gli abiti da sposa per cui l'abito da sposa con le frange un po' stile anni venti ma anche un po' hippie quindi c'è questa situazione un po' intermedia l'abito da sposa deve avere le frange. Quarta tendenza in super mega crescita è il bar creativo sempre probabilmente nella logica di questa voglia di festeggiare in maniera particolare e di festeggiare alla grande vengono sempre più cercati dei cocktail particolari più scenografici più colorati con del ghiaccio personalizzato tutte ricerche un po' strane anche per quanto riguarda i cocktail analcolici quindi non si festeggia solo con l'alcol forse un festeggiamento un po' più irresponsabile però c'è voglia di stupire anche con l'angolo bar. Quinta tendenza riguarda le torte nuziali ma anche l'angolo dei dolci quindi anche i dolci più piccoli che sono diventati sempre più floreali questo l'avevamo già visto l'anno scorso è un trend in continua crescita vengono cercate torte decorate con fiori o con il gusto di fiori o che assomigliano a dei fiori quindi cupcake a forma di margherita per esempio il fiore è presente in tutti i dolci soprattutto in quelli nuziali ma per quanto riguarda le torte vi rimando al video della prossima settimana che sarà proprio dedicato alle wedding cake e a tutte le novità che la pasticceria e soprattutto il cake design ci propone. Come avevo detto all'inizio però la tendenza più grande io l'ho valutata autonomamente perché è vero che osservando questi dati si vedono delle crescite però sono molto diverse dalle crescite degli anni passati mi spiego meglio i trend degli anni passati avevano dei picchi degli aumenti impressionanti anche del 1000% del 2000% cioè erano dei trend veramente evidenti veramente forti le crescite che vi ho raccontato quest'anno sono sì delle crescite ma non così importanti non così esagerate sono sicuramente dei trend ma non che condizionano tutti gli sposi del mondo la vera tendenza secondo me e ne sono molto felice perché sono cinque anni che con il mio vlog dico che si deve fare così è la voglia di personalizzare perché a ben guardare queste ricerche sono tutte mirate a creare dei matrimoni su misura dei matrimoni personalizzati quindi non più tanto dei matrimoni che seguono necessariamente le mode ma dei matrimoni che rispecchiano la coppia questa è la vera tendenza spero che non passi mai figure professionali come la mia servono proprio per aiutare a trovare la propria strada e aiutare gli sposi a realizzare il proprio matrimonio unico e speciale e quindi sono molto felice di questo noi ci vediamo al prossimo video ciao